Woi ragazzi e bentornati! Oggi vi insegnerò con un video brevissimo come trovare gli abietti cromati e soprattutto come ucciderli. Allora, popolo di salva al mondo, come si trovano gli abietti cromati? E innanzitutto, come riconoscerli? Li riconoscerete ovviamente principalmente dal colore, ma nel caso di missioni con modificatori, questi cicciotti cromati possono appunto assumere la forma di zombie di fuoco, di natura e acqua. Fisici li riconoscerete praticamente subito dal colore, mentre quelli elementali, come farete a riconoscerli? Semplicemente sono di dimensioni leggermente più grosse rispetto agli altri cicciottelli, diciamo. E soprattutto, quando andrete a ucciderli con un'arma ipoteticamente sbagliata, li atterrerete, quindi loro si metteranno in ginocchio per un po' di secondi e poi torneranno in piedi. Allora, lo zombie cromato non è un nuovo zombie, era già stato introdotto, non mi ricordo quanto tempo fa, ma comunque non è la prima volta che lo vediamo. Questo zombie cromato, allora sappiamo che può assumere qualsiasi forma, però è facilmente riconoscibile, ma ora vi devo spiegare come trovarli. È semplicissimo. Questa tipologia di zombie praticamente lo troverete in tutte le missioni che hanno come obiettivo una difesa. Quindi va benissimo cavalca al fulmine, va benissimo una tempesta di categoria qualsiasi, va benissimo ripara il rifugio, va benissimo anche evacua il rifugio, anche recupera i dati va bene, consegna la bomba pure, e le uniche missioni dove non troverete questi zombie sono appunto il rifornimento, in eliminare accogli, negli accampamenti e in salva i superstiti. Quindi ricordatevi bene, semplicemente andate ad affrontare una missione che vi richiede una difesa. Comunque, come uccidere questi zombie? Raga, è una cosa anche questa semplicissima. Gli zombie cromati sarà possibile ucciderli o con un'arma di fuoco oppure con un'arma d'acqua. Utilizzando un'arma di natura, fisico o energia, purtroppo dovrete atterrarli tantissime volte prima di poterli killare. Certo, non è impossibile, però il procedimento è alquanto più lungo rispetto a utilizzare un'arma di fuoco piuttosto che d'acqua e vedere lo zombie andare giù praticamente dopo averli tolto la prima vita. Comunque, quando nascono gli zombie di tipo acqua sappiamo che dobbiamo usare le armi di tipo natura, teoricamente, però purtroppo questo non farà sì che uccideremo gli zombie al primo colpo. Quindi anche contro gli zombie cromati d'acqua è opportuno utilizzare un'arma d'acqua in questo caso. Il danno purtroppo non sarà ottimale, però per fortuna andrà giù dopo la prima vita. Ovviamente, utilizzando un'arma d'acqua o di fuoco potete utilizzare qualsiasi arma di questo elemento. Potete utilizzare un lanciarazzi, una R, una spada, qualsiasi arma da mischia comunque, eccetera eccetera. L'importante è che appunto sia di questi due elementi. Queste piccole nozioni vi renderanno sicuramente la vita molto molto più semplice. E in sostanza, quindi, cosa dovete fare? Tenervi sempre nell'inventario almeno un'arma di fuoco piuttosto che d'acqua. Potete scegliere sia armi che hanno l'elemento innato, quali armi del drago, piuttosto che magari armi su cui avete messo voi l'elemento fuoco. Stessa cosa vale per l'elemento acqua. Quindi va bene il blitzer della bufera, va bene qualsiasi arma che voi vi siete trasformati ad acqua, eccetera eccetera. L'importante è comunque non utilizzare un'arma di natura, fisico oppure energia. Ah, sì, e se ve lo state chiedendo, ovviamente anche con le abilità non potrete tirarle giù dopo la prima vita. Dovrete killarli tante volte persino con la minigun. Stessa cosa vale per le overtorrette, molte volte comunque le avrete già lanciate e capiterà che magari voi state sparando con un'arma di fuoco, però la torretta finirà con l'ultimo colpo appunto lo zombie. In quel caso, sì, lo zombie si atterrerà e quindi voi dovrete aspettare che si rialza e ucciderlo nuovamente con un'arma di fuoco oppure d'acqua. Ecco raga, questo non era un video lunghissimo, mi sentivo comunque in dovere di portare questo video e spero che ne facciate buon uso. Qualora vi trovate in difficoltà, mi raccomando, fuoco o acqua? Da Kino per oggi è tutto, noi sicuramente ci vedremo molto presto perché sto già lavorando ad un altro video. Per oggi è tutto, bella bella! Ciao! Ciao!